Oggi parlo da persona indignata. Per tantissimi anni, per quasi 37 anni, sono stato nella polizia locale di Milano, sono entrato che avevo 20 anni. Ebbene, la cosa che mi sconvolge sono i risultati, i risultati che la polizia locale dà ogni giorno nel controllo di questa pandemia attraverso appunto le attività operative per far sì che le persone stiano in casa e non escono quando non ne hanno bisogno, per controllare le attività commerciali, per controllare le attività abusive affinché tutto questo, come dire, brulichio di persone che continuano ad esserci non ci sia più. Ebbene, ogni volta che il Ministero degli Interni decide di pubblicare i dati delle attività operative parla di polizia, polizia penitenziaria, parla dei carabinieri, della guardia di finanza e si dimentica sempre, sempre, sempre di parlare del lavoro fatto dalla polizia locale, dei morti della polizia locale. È ora di finirla. In una emergenza di questo genere possono ancora esistere figli e figliastri? Possono ancora esistere figli di un dio minore? Stiamo lavorando, stanno lavorando tutti quanti dalla stessa parte o no? Perché non riconoscerlo, questo lavoro? Me lo spiegate? Se me lo spiegate cerco anche di capirlo. Grazie